che siamo al party no 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 lei non ce la fa no no lei non ce la fa vedi ti ho detto che non ce la faceva voleva prendere l'elicottero l'ha preso glielo ho fatto esplodere con lui dentro sono morto eh ovvio grazie si uh come ho fatto col paracadute sparando a casa io ho salvato la vita a mike davvero mike ti ho salvato la vita quello che ti stava sopra l'ho ucciso io scendendo col paracadute non si sa guarda no ma comunque sto fucile d'assalto con questa configurazione è pauroso il cr cr si mamma mia è pauroso non mi carica ah è un malloppo che cazzo mi deve caricare andiamoci a fare due spiccietti al bunker che dite poi prendi no ecco la nostra zona di lancio pronti lì cazzo mi sa guarda è un malloppo che dite e lì cazzo mi dite in un malloppo di un malloppo dai con i malloppo vai col mambo mi sparano mi sparano ti sparano quindi ce l'abbiamo gente dietro soldato nemico in arrivo si si una a destra e una a sinistra 28 metri arrivano arrivano si che top vai ah è 60 60 27 45 13 ok se ci riusciamo si si bisogna prendere subito il quad e andarcene poi se c'è tipo un eeeh 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 ok vado qui si ma raga dobbiamo depositò si è la sotto si 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 vuoi vedere dove stava no sta qua dove cazzo stava ma questo vuole è il clacson questa è la porta fake mi sa quella che ci vuole il codice ok ok allora non lo so dove c'è qua c'è un allora ce n'è uno qua raga il primo sta qua proprio sta qua vicino non è lontano no raga è lontano no non è qua non è qua scendete il bule ma non è ma questa è quella è la stanza fake come fa esso un bunker qua il bunker è qui sotto verso il mare verso il mare no no c'è c'è un percuggio qua vicino sì sì ok vado qui non mi ricordo se scendeva l'acqua sotto no no No, l'abbiamo passato, l'abbiamo passato, non è qua Ma no, era quello di prima, quello che sta verso il mare Quello che abbiamo aperto prima No, no, ce ne sta Posso pilotare io? Io sono qua Sì, ho trovato, eccolo Però non mi fa entrare Infatti mi ricordavo che sta l'attuatorna Buon via, prendete? Ce n'è un altro Andiamo, andiamo Questo è... no No Ok, a destra quindi, all'uscita del bunker a destra, sulla scogliera All'elicottero Posso pilotare io? Faccio il passeggero Ci sono? Tenetemi un posto Questo si apre col codice, quello vicino a Boneyard Ma non abbiamo la tessera Questo qua si apre col codice, quello vicino a Boneyard Questo Ma la carta non ce l'abbiamo, raga Quella non possiamo andarcela, su quelli pink Qua c'è un nemico davanti al paracolpo alla cadute Ci sto, ci sto Vai 97, 26 41, 38 Coprite Mike comincia a scendere Chiudi la porta Eh, meglio che copre dentro, piuttosto che fuori Abbiamo fatto un milione, ragazzi No, l'hanno fatti i nemici un milione Eh sì Ecco, ecco Prendi i soldi Oh, pensavo che era risalito Vai 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 Oh, qua qualcuno gli sparo, ragazzi Eh, ho visto Scendi, scendi, Mike, scendi Sì eh l'ho scambiato boom buono qua c'è un attacco a grappolo prendilo prendilo lanci tu l'ora B ci sono oh ragazzi c'è sta gente qua alzati mazzato quello sopra bravo vai prendi i soldi eh sì qua Mike 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 Spartan scarica va scarichiamo eh lo so però intanto mazzato mazzato fuori sulla montagna mazzatelo raga ok copri vai col mambo c'è gente qua dove ho lanciato il bombardamento team magnetato ottimo gente un altro qua sotto dov'è io mi so già ando qui eh 90.000 ragazzi io sono al secondo piano al primo piano salite salite da me uno l'ho ucciso qua sotto eh c'è gente tremontana oh ragazzi i secondi ci sopra non vediamo anche se lo abbiamo fatto eh sì bisogna salire di un piano come cazzo ah ok l'hai presa tu l'ho ucciso qua io vado qui l'ho ucciso qua nemico in escesa nell'area operativa raga cazzo pezzo un po' dei soldi 172.000 maridato mamma mia si mamma mia 100 1.723.000 un altro po' arriviamo a 2 milioni davvero mamma mia ragazzi che partita e non siamo un altro po'